Musica Ciao a tutti ragazzi bentornati a TGAMING Sono appena rientrato dalle vacanze Quindi siamo pronti per ricominciare Ho ripreso le forze quindi adesso sono Molto più competitivo Allora cercherò come vi avevo detto di fare Alcuni cambiamenti nel canale E oggi vi presento Infiltring of Wireship E' un gioco con i sick man Che io ho visto praticamente Mi è saputo veramente carino quindi ho deciso Di farvelo vedere anche a voi Andiamo subito a giocare allora vai play E' di una stupidità assurda Questo gioco però è buffissimo Allora Ci dovremo infiltrare Praticamente ecco in questo aeroplano Assassino Già la musica E' fantastica Parabam Play Ok noi vestiremo i panni di un soldato A cui verrà praticamente affidata una missione Questi saranno i nostri cattivi Cioè i nostri nemici Dovremo Catturare Quello col soldo Questo qui ignorantissimo Non ho bisogno di ricordare Che ci abbiamo avuto Che ci abbiamo avuto Di molti Trasera Attemptando robberia Spacendo Spacendo Soprano Soprano E anche Spacendo Un'amore 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 Abbiamo 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 Un'amore Un'amore ok allora questo è l'aereo in cui dovremo entrare eccolo qua praticamente possiamo decidere da dove entrare possiamo provare a entrare con una cannonball con una mano appiccicosa vabbè con la grappetta quella che si attacca non ho idea con questo come cazzo entro comunque io direi ad entrare con la mano appiccicosa sembra giusto oh sono entrato però ok allora bone chain zero point energy ok direi questa perfetto ma che cazzo mi sa che questo non era la cosa più indicata ok ha recuperato ho recuperato ho recuperato un cazzo fail ok bisogna bisogna riprovare perfetto allora step back arriviamo ancora qui io direi di riprova la mano appiccicosa ma grande attaccato questa volta proveremo zero point energy ok no 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 non era questo quello che volevo fa se becca sentiamo con la cannonball ok ok l'ha fatto vg allora laser sedia sotto specie jetpack di un bello jetpack grandissimo ma va fa il culo dai ma come è possibile dai cazzo allora la cannonball mi ho capito che funziona vediamo i numeri che arriva a palla con questa cosa ignorantissimo allora la sedia no laser ragazzi ma dai cazzo c'è un laser rignorantissimo ma che me l'ha mai fatta a faa ce li proviamo regà mi sento fortunato oh yes oh yes oh bam briscole di ero c'è sto prendendo queste le bappe che pare quello dell'unitoose pare a sedia assassina questa funzionerà che cazzo è ok gli sta dicendo dei bloccacci a noi che sai ecco noi bastanto passiamo ignorantissime allora boost jack sono stato un po lento ok allora spikers riproviamo e boost grandissimo deducono non sia andato bene no no io ho attacco basso adiac fuck you bitch oh sono entrato sono entrato ok attacco a me corvo questo oh si stanno a chiudere le porte spikersi metal fires ok ci siamo però stavolta siamo pronti eccolo stanno a chiudere metafiss pugno di ferro ok no no stavano a ca andrà meglio sto sicuro ok non mi ricordo che erano quelle altre cose che mi faceva vedere quanto sbrigasceglie è la lavatrice no il teletrasporto ha funzionato ok no non è in grado di sopportare il teletrasporto abbiamo capito e che era l'ultima cosa i fagioli questa è una funzione per forza grandissimo un po' con peto si passa ahahahahah questo perchè è piano di sopra ah almeno si è sfumato il ponte rocket jump non so se funzionerà ok ha funzionato subito il primo copro rocket jump che cazzo vuoi? o lo yo yo o il coltello coltello ma che cazzo allora ehm magic fire vai ma è impossibile così ok coltello allora fight coltellata questo mi è una shotta questo mi è una shotta questo mi è una shotta ma io sapevo che mi è una shotta la riproviamo blitz o una suplex ma dai cazzo ma come si fa è impossibile io 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 vaffanculo che cazzo è qui? woods oh si 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 non so come ho fatto non so che cazzo ho fatto ma soprattutto so che ha funzionato e quindi questa è la cosa più importante ok se ne potremo andare mondo siamo aereo cat boots bfabs che cazzo è bfabs? bfabs ho preso gli esteroidi mi sono gonfiati le muscoli delle zampe finchè non sono esplosi dai proviamo questo questo dovrebbe funzionare dai grandissimo ok ok l'ho quasi raggiunto oh l'ho preso l'ho preso open l'ho mucappato per la cintura d'oro cioè per la collana d'oro ok abbiamo fatto un ottimo lavoro quindi adesso glielo dobbiamo consegnare oh cazzo grandi oh col carro armato questa me la dovevo aspettare però raga oh no ha funzionato ha funzionato ha funzionato io pensavo pensavo che avevo fatto una cazzata a dire la verità perché in realtà ha funzionato però io volevo vedere pure che cazzo facevano grandissimo oppure le obiettivi ci sono in sto coso allora voglio vedere che cazzo faceva con quell'altra roba raga tipo questo ah no ok abbiamo tradito i nostri compagni gli abbiamo buttato praticamente i manichini non 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 siamo passati dalla parte dei cattivi oddio questo gioco è della demenza assurda col missile lo voglio provare adesso ah ecco si montano nuova aa abbassava la fa così in realtà e li potevano abbattere tanto dell'intero aereo grandissimo però tra di li ma non ci è riuscito quindi deduco pure il paracaduto dovrebbe funzionare Non funzionava in realtà Ah no, pare che tutto è il missile Quindi gli diamo l'ultima volta dei tank Ok ragazzi ho idea di concludere qui questa prima puntata Spero vi sia piaciuto Spero vi sia piaciuto anche il genere del gioco Spero vi abbia fatto fare due risate Mi raccomando condividete con tutti i vostri amici Aiutateci a crescere Ciao a tutti ragazzoli Ehi tu ragazzolo ragazzola Cosa stai facendo ancora lì? Vuoi vedere il nostro ultimo video qui Direttamente nella nostra anteprima Oppure iscriviti al canale se non l'hai già fatto Mi raccomando iscriviti Oppure ancora Guardare i nostri sponsor Element oppure Vincenzo Il classico per tutti i nostri sound E mi raccomando non dimenticate Di cliccare nella pagina Sottostante di Start Gaming Se vuoi gli sconti dei nostri giochi Grazie a tutti